Le nascite di bambini sono una cosa davvero incredibile. Una nuova vita viene al mondo e delle persone diventano genitori. Tutto, almeno per quel momento, sembra bellissimo e perfetto. Almeno per pochi secondi, quando ancora non si ha intenzione di sapere come andrà il futuro. Semplicemente si vuole godere del momento. Ma proprio dopo quei secondi o minuti, alcuni bambini e alcuni genitori nel mondo si rendono conto di dover affrontare qualcosa. Perché non sempre le nascite vanno come si vuole. Non sempre tutto fila liscio. Alcune nascite lasciano gli esperti senza parole. Parliamo per esempio dei bambini che nascono prematuri. Pochi di loro ce la fanno, ma quelli che riescono a sopravvivere entrano veramente nella storia, per la loro forza di volontà. Se siete pronti, cominciamo. Nel marzo del 2017, una piccola neonata è stata data alla luce per mostrare a tutti che non bisogna dare per scontata la vita di un essere vivente, specialmente quella degli esseri umani. Anche se sembra siamo sull'orlo della sconfitta, vicini alla morte, spesso riusciamo a rialzarci, con la nostra sola forza di volontà. Perché è questo che ci contraddistingue maggiormente. La voglia di sopravvivenza. Questa è la storia della piccola Poppy McQueen, che ha sbalordito il mondo diventando una delle notizie principali in Inghilterra durante l'accaduto. È nata prematura di ben 18 settimane, quindi con soli 4 mesi circa di gestazione. Era grande come una pallina da tennis, con un peso poi di soli 340 grammi. Praticamente stava nel palmo della mano. La madre Anna e il marito Steve, ovviamente, erano molto in pensiero e preoccupati per una situazione simile. Specialmente Anna si sentiva in colpa per tutto, anche se i medici le hanno detto più volte che non avrebbe potuto farci niente. A causa di una terribile complicazione medica, aveva avuto dolori terribili e stava per avere anche un aborto spontaneo. La sua gravidanza non è stata per niente semplice e più volte ha rischiato di perdere la bambina, finché infine non hanno deciso di tirarla fuori prematura. Suo marito Steve, preoccupatissimo quel giorno, ha dovuto prendere una decisione veloce. L'ambulanza ci avrebbe impiegato troppo e ha guidato lui per portarla all'ospedale che era soltanto a 15 minuti circa di auto, la decisione più difficile della sua vita, perché se avesse trovato traffico chissà cosa sarebbe successo. Ma l'ambulanza prima dell'arrivo avrebbe impiegato 15 minuti, per questo ha deciso di agire lui stesso. Arrivato in ospedale però non sapeva come comportarsi o cosa fare. Sua moglie era in una situazione difficilissima e i medici gli dissero che ci sarebbe voluto molto per aiutarla e che non era sicuro se sarebbe sopravvissuta la neonata o addirittura la madre. Infatti dopo due ore hanno capito che c'era bisogno di far nascere la bambina prima possibile. Steve, sentita la notizia, cadde a terra dalla tristezza. La moglie sarebbe sopravvissuta sicuramente, ma cosa sarebbe successo alla bambina? Dovete comunque accettare la cosa perché se non avessero fatto nulla le avrebbe perse entrambe. Dopo moltissime ore finalmente nacque Poppy, ma le sue condizioni erano veramente critiche. I dottori, vedendo l'entità dei danni, erano sicuri non sarebbe sopravvissuta, ma avrebbero fatto di tutto per alleviarle il dolore. La notizia sconvolse la coppia. Speravano con questo metodo le cose sarebbero andate diversamente, ma ahimè, così a quanto pare non sarebbe stato. Era alta quanto la mano della madre respirava fatica. Aveva già una malattia molto grave, rilevata sul momento con delle analisi. Aveva un disturbo della crescita e questo le impediva un buon afflusso di sangue. Era un caso peggiore del previsto. Nonostante tutto, si fecero forza Anna e Steve per passare gli ultimi minuti con la loro bambina. Dopo averla salutata, l'infermiera la prese per portarla in un'altra sala e proprio lì il medico notò che forse c'era ancora qualche speranza. E che forse sarebbe sopravvissuta, ma come era possibile? Beh, semplicemente forza di volontà. Non sembrava voler chiudere gli occhi e sembrava voler invece lottare con tutte le sue forze. Addirittura cercava di muoversi. Era come se avesse capito quanto i genitori tenessero a lei. Infatti quel poco tempo che gli aveva visti con occhi aperti era rimasta ferma, immobile, ad osservare. Incantata forse dalla famiglia che la aspettava. Ora dopo ora il medico insieme agli infermieri ha continuato a sorvegliarla, notando come le cose stessero cambiando, compresi segni vitali. In poco tempo il suo peso era aumentato a quasi due chili. Per moltissime settimane è rimasta in ospedale, diventando la notizia principale. Infermieri e i medici facevano a turno per osservarla e darle motivazione. Anna era lì, sempre con lei, e la ritrovata speranza aveva ridato veramente a tutti la voglia di vivere e mettercela tutta. Infine Poppy ce l'ha fatta. Ovviamente nascere così prematuri porta ad alcuni problemi che però a quanto pare crescendo sarebbero forse andati via. Bisognava solo aspettare. Ad oggi vive contenta con i suoi genitori, che sono orgogliosi di lei per la forza di volontà che ha dimostrato in quel periodo difficile. I giornali hanno parlato di lei mostrando come non bisogna mai dare per scontata la vita e come alcuni fin dalla nascita ce la mettono tutta per stare in questo mondo. Con questo concludiamo, spero questo piccolo video vi sia piaciuto e ci sentiamo alla prossima gente. Stesso posto, stessa voce, storie sempre diverse.